Sta arrivando un ospite molto ma molto speciale Farà una visita perché è una persona molto 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 seria Eh? Chi è? Chi è? Chi è? Va a vedere tu Va a vedere Va a vedere chi è Va a vedere Chi è? Dottor Bastilocchi Ah buonasera Signor Pausto Moretti Sì Posso salire? Prego Prego Chi è? Chi perde? È il dottore Guarda chi è Guarda chi è Prego prego Grazie Prego Paziente è di qua paziente? Sì Sì È un po' impaziente Ah è impaziente Buonasera 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 Sono il dottor Mattiocchi Chi è sto vecchio L'imbecillito? Sono il dottor Mattiocchi Sono venuto a vedere come va l'operazione Ma chi è sto vecchio L'imbecillito? Adesso vediamo Sto l'imbecillito Controlli Controlliamo Allora Deve prendere Per questa sera Che gli scrivo la ricetta Due supposte Per te Due supposte Quelle che figli tu hai Angele Due supposte De mio duro Sì Dove tu va duri Due supposte De mio duro Uno Uno al mattino Sì E una alla sera E allora mettono sempre dentro Almeno Questa Adesso facciamo l'operazione principe Perché questa è importante Per vedere se è riuscita l'operazione Questi quanto sono? Stia fermo Questi quanto sono? Stia fermo Risponda Quanti sono? Questi sono 50 Ma sono false Va benissimo Questi quanti sono? Ma tu Fermo Risponda Quanti sono? Ma tu Spacci soldi false? Rispondi Quanti sono? Quanti sono? Questi sono 100 E allora Allora è guarito totalmente E quindi Ma tu spacci soldi false? Quindi prenda queste supposte De mio duro Che carisci E tu è tu sicuro Senta dottore Già che è qua E comunque lei è uno molto professionale Attento al paziente Sempre attento Molto comunque preparato Umano e preparato Sì Ma può controllare un attimo Come dire Il cincillà? Subito Faccia controllare il cincillà Faccia controllare il cincillà Ma questa è la violenza Mi scusi Faccia controllare il cincillà Ma a te Stronzo E' morto E' morto il cincillà La canzone come fa? Fa 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 E' morto il cincillà In Sud America Fa 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 E mo come si fa A fallo resuscita E' morto il cincillà Ehi Bucciotto Dottore Dottore però Gli facciano controllo Adesso si lo ricontrolliamo Eccolo 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 Che è questo L'ha incartato pure Sì L'ha pure incartato Favamo una visita Favamo una visita Favamo una visita Le spalle Terrorista Terrorista Ma che terrorista L'ha incartato Sto a fare una visita L'ha incartato E' l'ha incartato Stasca di cazzo L'ha incartato È un bottino Ma che bottino Questa è una bottina Che bottino Che bottino Ah la pressione Dottore La pressione La pressione La pressione La pressione Io questa è una banda De matti Io me ne vado Arena dove vi anche Il dottore Manca un refetto Ah dottore manco ne faccio, manco ne faccio ma lei è andato via il dottore oh no, ma hai scacciato anche il dottore ma vaffanculo tu e lui, stronzo tu e lui sei due stronze con essi come quella della fila no no come? senti che parlava al telefono e diceva battiloni battiloni è il mio parente parlavo con lui si stava a mettere d'accordo parlavo con lui? che tepianco nooo nooo dal dottore nooo nooo ma sentivo che discorre domani stasera sai che diceva ma io guardavo fuori quella è per la visita oculistica oculistica quello è levato a tu eeeh 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 eeeh